E' notizia odierna che lo Stato ha incamerato qualche soldino grazie all'attività della Guardia di Finanza, ma non soltanto, grazie all'attività anche dei Carabinieri e grazie soprattutto al coordinamento delle attività di indagine posto in essere da alcune procure e da una direzione distrettuale, ma iniziamo a raccontare quello che si è saputo questa mattina. Fin da subito si è saputo che grazie ad un'inchiesta promossa dalla Procura di Pavia si è scoperta una maxitruffa nelle energie rinnovabili con una frode a danno dell'erario di 143 milioni di euro e poi aggiungo di contributi statali. Ai domiciliari è finito fino anche Pietro Franco Tali, ex amministratore delegato di Saipem. Ora per chi non lo sapesse, Saipem è un gigante dell'industria italiana, un gigante quotato in borsa che ha circa 32 mila dipendenti se non sbaglio e fatturava nel 2018 circa 8 miliardi e qualche centinaio di milioni di euro. Che cosa facevano? Vi leggo tutto quanto. In pratica questi signori guidati dall'abile intelligenza di Tali, ex amministratore delegato di un'azienda partecipata dal pubblico, partecipata dallo Stato perché Saipem prima era gruppo Eni, tant'è che è stata fondata da un certo Enrico Mattei. Ecco Tali aveva posto in essere una truffa finalizzata ad ottenere illecitamente contributi per ogni milione di euro di energia immessa sul mercato e venduta al cliente. Perché la società che aveva posto in essere questa frode la biolevano percepiva dal GSE circa oltre 3 milioni di euro di contributo di incentivo, quindi per ogni milione di euro di energia prodotta attraverso la combustione di legname al fine di ottenere energia elettrica, lo Stato garantiva a questi signori oltre 3 milioni di euro di incentivo, quindi per un milione di euro che tu produci, dandolo al consumatore, lo Stato ti dà 3 milioni di euro. Ma chi li prendeva il GSE, il gestore per i servizi elettrici, questi 3 milioni di euro? A tutti quanti noi sulle bollette, perché tutti quanti quando paghiamo una bolletta dell'Enel o comunque di un qualunque fornitore di energia elettrica, scopriamo che i consumi sono sempre inferiori rispetto ai costi fissi e nei vari costi fissi c'è anche la quota di incentivo dato dal GSE a chi produce energie rinnovabili. Grazie a questa indagine promossa dalla Procura di Pavia si è capito che nei soli ultimi 5 anni questi signori ci hanno fottuto 143 milioni di euro. Probabilmente non si è potuti andare oltre indietro nel tempo per problemi di prescrizione. Siccome è una truffa che è stata realizzata in funzione di un incentivo voluto dal governo Monti nel 2012, perché se non ricordo male tutto è datato 2012 e nel 2012 noi abbiamo avuto il governo Monti, allora dobbiamo capire che essendo nel 2021 questi signori hanno operato in maniera fraudolenta per 9 anni, ma noi possiamo ottenere la restituzione di quello che ci hanno tolto soltanto per gli ultimi 5 anni. Questo causa prescrizione, lo dico fra parentesi perché la prescrizione è un altro degli argomenti su cui qualcuno voleva far cadere il governo e ci è riuscito, ma qui mi fermo. 143 milioni che cosa è successo? Che per compensare questa azione a danno delle rarie dunque di noi contribuenti, la Procura di Pavia è riuscita ad ottenere, attraverso insomma l'assenso del GIP e del Tribunale stesso di Pavia, sequestri per oltre 140 milioni di euro. Vi leggo velocemente, 69 rapporti bancari sono i conti correnti, 22 quote societarie di altre tante società del gruppo del valore di circa 19 milioni di euro, 147 fra veicoli immobili e terreni del valore di oltre 12 milioni di euro, fra cui un prestigioso appartamento nel cuore di Milano, una villa di pregio con piscina vista mare, sita in Portobello di Gallura, provincia di Sassari e una villa in collina sita in Galbiate, provincia di Lecco, oltre all'intera centrale elettrica del valore di circa 70 milioni di euro. E questi sono 143 milioni di euro. Poi contestualmente, questo era un sequestro, la DDA di Reggio Calabria ha ottenuto, in ultimo, perché questi sono processi giuridicamente purtroppo molto complessi e anche molto lenti, la confisca di un patrimonio ingente costituito da 4 società di capitali e relativo patrimonio aziendale, un'impresa individuale e relativo patrimonio aziendale, quote societarie relative a 6 società di capitali, 67 fabbricati, 91 terreni, 7 autoveicoli, 20 rapporti bancari e assicurativi, 4 orologi di pregio, perché lo ricorda tutti, se non c'hai Rolex non sei nessuno, e denaro contante per un valore complessivo di oltre 124 milioni di euro nei confronti degli imprenditori Bagalà Luigi, classe 46, Bagalà Francesco, classe 77, Bagalà Giuseppe, classe 57, Bagalà Francesco, classe 90, indiziati di intraneità alla cosca Piromalli di Gioia Tauro. E allora 140 a Pavia, 124 a Reggio Calabria significa 264 milioni di euro, che in qualche modo, in maniera differente, però lo Stato sta cercando di riprendersi, perché erano stati sottratti allo Stato illecitamente, illegalmente, criminalmente. Si tratta di oltre un quarto di miliardo di euro in una sola giornata. E queste sono le operazioni più importanti, quelle di cui si ha notizia attraverso la stampa nazionale e così via. Ma se noi dovessimo sommare tutto quello che viene ad essere oggetto di sequestro e o confisca, il sequestro non è mai definitivo, a differenza della confisca e così via, noi ci renderemmo conto di quale vantaggio potrebbe avere il nostro Paese se effettivamente le istituzioni e le autorità preposte combattessero con tutti i crismi la criminalità organizzata di stampo mafioso e non soltanto perché a Pavia non c'è il 416 bis, ma c'è comunque un'associazione da delinquere e i reati associativi sono ben più gravi dei reati individualmente commessi. Apro un'altra parentesi tutta calabrese. La procura di Paola meritoriamente oggi ha fatto raggiungere 18 soggetti da informazioni di garanzia. Ve lo leggo velocemente, scusatemi. In pratica, una loggia coperta e i condizionamenti sulle gare d'appalto, il canovaccio si sarebbe dipanato nell'alto tirreno cosentina, in particolar modo a Scalea, con Propaggini in Basilicata. Ma a Scalea di recente c'è stata un'operazione, sempre della procura di Paola, che ha coinvolto un medico ex sindaco della cittadina tirrenica. E questa stessa cittadina tirrenica fu coinvolta diversi anni fa in una importante operazione della direzione distrittuale antimafia di Catanzaro, con esiti che lasciarono molti insoddisfatti perché forse si era coperto qualcuno. Ma questa è una voce. Fatto sta che forse bisognerebbe essere molto più drastici e molto più filologici. Però si parla di una loggia occulta. È un'ipotesi questa di un'inchiesta della procura di Paola guidata dal procuratore Bruni. Gli uffici giudiziari indagano sull'esistenza di un sistema che avrebbe gestito commesse dirottandole verso un cartello di imprese. Le persone indagate per associazione a delinquere, finalizzata alla turbativa d'assa, sono 18. Sono poi elencati i nomi. Che io sappia si tratta di dirigenti degli uffici tecnici di alcuni comuni, ma anche di assessori. Sarebbero coinvolti anche alcuni consiglieri comunali del comune di Belvedere Marittimo. E ancora, e ancora vi debbo dir questo, che oggi è il 27 gennaio e dunque ricorda la giornata della memoria. Giornata con cui tutti quanti dovremmo ricordare cosa sia stata la Shoah. Ora, perché faccio queste considerazioni e poi vorrei che solo e soltanto chi condivide questi miei toni, oltre che questi argomenti, condividesse questo video, il Movimento 5 Stelle, qua entro nel merito, e vorrei che tanti giornalisti facessero attenzione a quanto sto per dire. Il Movimento 5 Stelle è nato per far giustizia, per combattere quell'illegalità diffusa, spesso anche mafiosa, che è entrata silenziosamente nello Stato e che fa sì che servitori delle istituzioni, servitori dello Stato, servitori dunque di un Paese che dovrebbe tutelare soprattutto i più deboli, servano non i più deboli, bensì i più forti. Il Movimento 5 Stelle, udite udite, è nato per essere divisivo, perché in questo Paese o si fa la lotta alle mafie, oppure ci si accomoda a pranzo, a cena e anche all'aperitivo con le mafie. Ho voluto cominciare questa disamia ricordando che un ex amministratore delegato di una società quotata in borsa un tempo partecipata dallo Stato è stato consigliato il regista di questa operazione che in maniera fraudolenta ha sottratto ben 143 milioni di euro nei soli cinque ultimi anni attraverso l'operato del GSE all'utente del servizio elettrico, al consumatore che si trova costretto a pagare non per il kilowatt consumati, ma perché ci sono i costi di sistema. Ma se questi costi di sistema sono costi truffaldini che permettono fino anche l'acquisto della villa in Costa Smeralda probabilmente, ma perché dobbiamo pagare? E allora maggioranza e governo, e glielo ribadisco per l'ennesima volta, e tutte le opposizioni anche, se volessero efficacemente contrastare le mafie, sanno su che cosa intervenire. Questi sono reati economico-finanziari, posti in essere da colletti bianchi, da commercialisti, da consulenti del lavoro, da consulenti aziendali, da avvocati, da notai, che individuano la crepa nel sistema e dunque sfruttano la stessa. Vi ricordate? Per ogni milione di euro di energia elettrica immessa sul mercato e venduta, addirittura si aveva un incentivo pari a 3 milioni di euro. Ma chi è che non si metterebbe a affrodare sulla provenienza del legname che doveva provenire da un raggio di circa massimo 70 chilometri dal luogo in cui sorgeva la centrale, ma che in realtà veniva acquistato molto spesso dalla Svizzera lucrando un risparmio oscillante fra il 30 e il 50%. Ora, questo significa che la vera criminalità è quella che sottrae risorse alla comunità. In altri paesi negli Stati Uniti, e non sono certamente un modello per il sottoscritto, chi fa evasione fiscale rischia il carcere. E voi lo sapete. Da noi, chi fa evasione fiscale rischia il Quirinale. Questo è il nostro paese. E che anche noi M5S ci si presti a queste dinamiche, ma avvilisce. Per cui, insistentemente, come un rompipalle quale io sono, chiedo a chi di dovere che l'azione del Movimento 5 Stelle torni ad essere forte, determinata, tosta, vigorosa, gagliarda, per far capire che il Movimento è contro queste forme di predazione sociale, il forte che toglie al debole, e che al contrario era nato per favorire un riequilibrio, permettendo al debole di ottenere aiuto dal forte. Non in una logica competitiva di scontro e di contrasto, ma in una logica di comunione, perché noi eravamo quelli per cui nessuno doveva essere lasciato indietro. Per cui il modello dell'imprenditore non era quello che fa profitto e basta, ma era Adriano Olivetti, che sapeva bene che cosa fosse la responsabilità sociale d'impresa. E allora, io vorrei soprattutto rivolgermi agli amici del Movimento. Qui è un purpurri di giornalisti che ci inseguono, ma allora vi prendete eletti di Forza Italia, eletti di qua, eletti di là. Come voi sapete, io sono Presidente della Commissione Antimafia, e mi sono interessato ben poco, non per mia scelta, di crisi di governo e di soluzioni che si darà alla stessa. Però chiedo, umilmente, ma anche con forza, in ginocchio al Movimento, di fare il Movimento, di essere Movimento. Quando io leggo agenzie e scopro che alcuni vorrebbero un Movimento incapace di dettare la linea, e attento a non promuovere dibattito su temi divisivi, mi si drizzano le carni, mi si accapponisce la... Insomma, sto male. Ho detto anche mi si accapponisce, che poi mi si accappona la pelle. Non ce la faccio. Io sono nato per cambiare, e sono arrivato qua, politicamente parlando, per cambiare, non per consolidare. Il sistema va cambiato. Che poi si possa cambiare in due mesi, o in due anni, o in vent'anni, è un altro discorso. E ci vuole saggezza. E la cosa giusta, fatta al momento sbagliato, può essere un errore formidabile. Ma la cosa giusta rimane la cosa giusta. E va fatta. E bisogna lavorare per creare le condizioni in cui possa diventare, non soltanto la cosa giusta, ma anche la cosa opportunamente da fare in quel momento. E adesso, adesso, il problema non è Renzi, non è Berlusconi, non è il mio ex collega Ciampolillo. Il problema è il movimento. Perché se il movimento detta l'agenda e non si fa mettere all'angolo, non ce n'è per nessuno. Per nessuno! E adesso sta a noi. La vera battaglia è anche una battaglia di compattezza, perché dobbiamo essere compatti, ma dobbiamo esserlo. Tornando ad essere il Movimento 5 Stelle. E non qualcosa di sbiadito, di scolorito, di annacquato. Perché tutte le tradizioni politiche sono esposte a questo rischio. Nascere rivoluzionari, e morire pompieri. Io il doroteismo l'ho combattuto e di conseguenza modalità ben poco determinate e coraggiose di far politica non le sopporto. Vi chiedo scusa, ma questo sono. Adesso debbo scappare e vi ringrazio. C'è in ultimo, ecco questo mi ricordano, un appuntamento importante che vorrei ricordare, questa sera, non soltanto sulla mia pagina Facebook, ragionerò con Michele Albanese, con Nicola Gratteri, il primo è un giornalista che vive da più anni sotto scorta, se non ricordo male, dal 2014, in Calabria, in provincia di Leggio Calabria, il secondo non ve lo debbo presentare, Nicola Gratteri, insomma, è un magistrato con gli attributi. Credo che siano le persone giuste per promuovere un focus sull'andrangheta oggi e su come l'andrangheta sia sempre più colletti bianchi, criminalità economico-finanziaria, massoneria deviata, naturalmente, istituzioni corrotte, insomma, alle 20 e fino alle 21 e 30 circa, vi aspetto perché sarà possibile ragionare con persone ben più qualificate del sottoscritto su un tema che dovrebbe essere attenzionato anche dai valdostani, anche dagli emiliani, anche dai lombardi, dai liguli, dai piemontesi e dai veneti perché un pochino di indrangheta non la neghiamo a nessuno e quindi ce l'abbiamo dappertutto, ce l'abbiamo in oltre 30 paesi al mondo e in 5 continenti su 7, non ci sono presenze di indrangheta soltanto in Artide e in Antartide, ma dateci tempo e anche là arriveranno le locali di indrangheta dove c'è possibilità di far soldi, li troviamo sempre puntuali e in prima fila, quindi questa sera alle 20 ragioneremo insieme di indrangheta io, Nicola Gratteri e Michele Albanese. Vi ringrazio a questa sera.